Ben trovati al TG6 L'Aquila. Oggi apriamo il telegiornale parlando di inchieste e di norme più severe sulla ricostruzione. Questo è stato in definitiva l'argomento centrale nel colloquio tra il Procuratore della Repubblica Fausto Cardella e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita ieri in città. Rendere il sistema della ricostruzione degli appalti più trasparente in modo da arginare con norme più severe appunto le eventuali scorrettezze e il servizio. Procuratore, l'incontro con Mattarella si è parlato anche di inchieste della ricostruzione, magari di creare anche delle norme più severe in questo senso? Ma se ne è parlato ovviamente pubblicamente, questo è stato l'incontro. Io l'ho chiesta, ho rinnovato quella richiesta, poi non è neanche una richiesta, è un desiderio, un'aspirazione che ci sia una norma che cristallizzi quantomeno questa posizione dell'amministratore che noi abbiamo anticipato, alla quale noi siamo arrivati per via di interpretazione giuridica, ma certamente se ci fosse una legge e questa legge disciplinasse ancora più severamente, più precisamente di quanto non sia già adesso e il sistema degli appalti, dei subappalti, delle ditte, certamente sarebbe un grosso argine nei confronti dei rischi di legalità. Sono venute alla luce tante inchieste, segno che comunque anche la Procura sta facendo un ottimo lavoro. Ma guardi, noi ci sforziamo di fare il nostro lavoro al meglio, le inchieste ce ne sono, ce ne sono state, ma le potete contare voi direttamente perché sono tutte pubbliche, diciamo, sono ormai tutte venute alla luce, tranne quelle che stiamo facendo ancora. E ripercorriamo attraverso il prossimo servizio di Giorgio Alessandri quelle che sono state le tappe della visita di Mattarella all'Aquila. Emozioni ed impegni per la città. Una giornata storica e dal tempo stesso intensa per i tanti avvenimenti e le emozioni che si sono succedute nel corso delle ore. La visita del Presidente della Repubblica a Mattarella, oltre ad aver riacceso i riflettori dei media nazionali sul dramma, quello del terremoto, che è lungi dall'essere superato, ha regalato emozioni fin dal primo mattino, quando davanti alla casa dello studente ha dapprimare somaggio alle vittime e poi ha incontrato sopravvissuti e familiari di chi, quella maledetta notte del 2009, ha perso la vita. Momenti di forte partecipazione anche a Donna, una delle frazioni più martoriate dalla furia del terremoto, dove il Presidente si è lasciato andare ad un parallelismo con i tragici fatti che in questi giorni riempiono le cronache. Noi invece non sono distanti fra di loro, sono due tragedie, ma soprattutto perché la volontà degli aquilani di ricostruire, di ripartire con una vita normale e serena, che speriamo si realizzi nelle condizioni ottimali al più presto, è un segnale per tutti, anche contro chi vorrebbe distruggere la serenità della nostra convivenza in Europa. È importante questo messaggio. Le tragedie della Francia e dell'Aquila non sono distanti tra loro, soprattutto perché c'è la volontà degli aquilani di ripartire con una vita normale e serena, che spero si realizzi nelle condizioni ottimali al più presto, ha detto il Presidente, che a metà mattinata ha preso parte all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo Aquilano. Anche in quell'occasione, dopo aver elogiato l'Università, per la tenacia con cui ha resistito al pericolo di ridimensionamento dopo il sisma, il Capo dello Stato non ha esitato a fare un parallelo con l'Eccidio di Parigi, ricordando come proprio la cultura sia una delle armi più efficaci contro l'ignoranza e l'uscorantismo. Dopo un pranzo in prefettura a base di prodotti locali, il Presidente Mattarella ha partecipato ad un'altra inaugurazione, quella del Palazzo di Giustizia, non ancora completato del tutto in realtà. Una giornata aquilana per constatare di persona a che punto è la situazione ed ascoltare la nuova richiesta di regole più stringenti e severe per la ricostruzione, giunta dal Sindaco Cialente in persona. Un appello, almeno si augurano tecnici e cittadini, che non rimarrà inascoltato. Non sono riusciti invece ad incontrare il Presidente della Repubblica i forestali che hanno dato vita fuori dal Tribunale ad un sit-in di protesta. Il prefetto Alecci però li ha rassicurati, porterà le loro istanze alla Presidenza della Repubblica, la forestale sostanzialmente dice no alla militarizzazione del corpo. Ci spiega tutto Giorgio Alessandri. Non c'è stato l'atteso incontro con il Presidente Mattarella per chiedere un intervento urgente per bloccare l'ipotesi di scomparsa del loro corpo ultracentenario. Sono rimasti a bocca asciutta i forestali che durante l'inaugurazione del Palazzo di Giustizia hanno manifestato con un sit-in all'Aquila per ribadire la contrarietà al progetto di inglobamento con l'arma dei carabinieri. I forestali nel colorato sit-in hanno richiamato l'attenzione del Capo dello Stato reggendo ciascuno una lettera che componeva lo slogan «Civili per natura», richiamando proprio l'ipotesi di militarizzazione del corpo prevista dal decreto sulla pubblica amministrazione del Ministro Marianna Madia. All'uscita dal palazzaccio il Presidente ha salutato i manifestanti dall'interno dell'auto presidenziale mentre il Prefetto Lecci ha però garantito che si farà portavoce delle rivendicazioni con il Presidente chiedendogli di intercedere con il Premier Matteo Renzi affinché si convochi un incontro a Palazzo Chigi. Ci aspettiamo quello che abbiamo già riferito la settimana scorsa al signor Prefetto dell'Aquila incaricato direttamente dal Segretariato del Quirinale dove abbiamo sollevato quelle che sono le nostre preoccupazioni rispetto a questo progetto di riforma. Noi vogliamo in qualche modo che venga riorganizzato il Corpo Forestale dello Stato così come la legge Madia prevede. Prima ancora che il Governo preveda che noi possiamo essere eventualmente assorbiti ad altra forza di polizia quindi evitando lo spezzettamento, evitando che tutte le professionalità e tutto ciò che abbiamo acquisito nel tempo anche rispetto alla funzione svolta fino ad oggi possa essere in qualche modo disciolta in maniera poco corretta. E ora parliamo di carabinieri. Il colonnello Giuseppe Donnarumma lascia l'Aquila quasi un anno nel capoluogo di Regione come comandante provinciale. tanti risultati operativi conseguiti e soprattutto una fattiva collaborazione con la Procura della Repubblica dell'Aquila soprattutto per le inchieste del dopo sisma. Sentiamo. Il colonnello Giuseppe Donnarumma, comandante provinciale dei Carabinieri lascia l'Aquila per assumere un incarico al Comando Operativo di Roma. Quasi un anno nel capoluogo di Regione, risultati operativi importanti conseguiti anche grazie alla fattiva collaborazione con la Procura della Repubblica come sottolineato dal procuratore Fausto Cardella. Su tutti il colonnello ha voluto ricordare l'esplosione di Tagliacozzo. Ho visto i miei uomini, ha detto, tirar fuori i feriti sin da subito e sacrificarsi anche a costo della vita. Ma in fondo l'arma dei Carabinieri è proprio questa. Ma sono risultati senz'altro diffusi in tutta quella che è l'articolazione provinciale. Quindi ci siamo applicati senz'altro nelle importanti attività collegate al controllo di legalità a seguito e a margine della ricostruzione. Quindi secondo quelle che erano esigenze di approfondimento che la Procura della Repubblica dell'Aquila ha richiesto di affrontare. Ma oltre a questo c'è tutta una provincia che si è vista in qualche modo chiamata a contrastare tanta parte di reati diversi. Sono i reati predatori, sono i reati contro il patrimonio, sono aspetti che caratterizzano anche la sicurezza percepita e generale di una provincia molto molto ampia. Donna Rumma ha ringraziato anche la stampa per la collaborazione e soprattutto per la compostezza in questa stagione difficile, ha detto, fatta in inchieste in un territorio ancora sofferente. Il colonnello ha poi ringraziato i 623 Carabinieri appartenenti alle 5 compagnie che compongono il comando provinciale definendoli straordinari. Ed è proprio questo il grande merito, secondo il procuratore Cardella, aver valorizzato gli uomini. È nella responsabilità di chi si è chiamato a guidare, a comandare un'unità provinciale, valorizzare i propri uomini. È il primo degli obblighi. Quindi io ritengo di aver fatto il mio dovere e sono felice che si possa essere colto questo aspetto in cui ciascuno è chiamato a portare il proprio contributo e le intelligenze non guardano al grado e quello che deve essere patrimonio condiviso è l'orgoglio a una dipendenza funzionale da quell'autorità giudiziaria a cui è conferita naturalmente l'alta responsabilità e il controllo di legalità. Apriamo una pagina legata invece alle vertenze sindacali. I lavoratori dei servizi sociali della comunità montana Montagna dell'Aquila hanno percepito soltanto una settimana di stipendio negli ultimi 5 mesi pur continuando a lavorare per mantenere in piedi la rete di protezione sociale del territorio. Lo denuncia Goffredo Jucic, segretario di Rifondazione Comunista dell'Aquila. Se come sembra la comunità montana dispone delle risorse necessarie per permettere alla cooperativa Verde Acqua di saldare le spettanze con il personale spiega non si capisce cosa stia producendo questa situazione soprattutto in presenza di operatori sanitari. Invito la FPCGL che da sempre si è dimostrata attenta a questa avvertenza ad intervenire presso la comunità montana e presso la cooperativa affinché in tempi rapidi si raggiunga un'intesa in grado di soddisfare le più che legittime pretese dei lavoratori. Spero che questa vicenda conclude e non si trasformi in un braccio di ferro tra l'ente e la cooperativa a suon di carte bollate. Sarebbe la definitiva fine dei servizi sociali del nostro territorio montano. La cronaca resta in gravi condizioni. La giovane di 14 anni che ieri è stata investita mentre attraversava la strada nei pressi del progetto case di Sant'Elia. La giovane stava attraversando la strada per arrivare alla fermata del bus che poi l'avrebbe portata a scuola. La guida della vettura che l'ha investita a Sant'Elia che è una frazione dell'Aquila. Lo ricordiamo, c'era una donna che si è subito fermata ed ha allertato il 118 che poi ha trasportato la ragazza all'ospedale San Salvatore. La sua prognosi resta riservata. E non si placa l'ondata di forti. In città colpito nuovamente dai malviventi il complesso della Res Romoli, l'ex scuola di alta formazione per un periodo dopo terremoto sede del rettorato dell'Università dell'Aquila. Nel fine settimana appena trascorso infatti i malviventi si sono introdotti nella struttura e dal magazzino sono riusciti a portare via cavi in rame e d'acciaio. Continua la battaglia a suon di comunicati stampa sul futuro del Gran Sasso. Il referendum proposto da un comitato ad hoc per rivedere i confini del parco. A prendere la parola in questa occasione è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Guido Liris che attacca il centro-sinistra. Ci dice tutto Giorgio Alessandri. Non si placano le polemiche sullo sviluppo del Gran Sasso. Dopo l'accantonamento delle ipotesi del referendum per rivedere i confini del parco, annunciato dallo stesso comitato promotore, a scendere in campo è il capogruppo di Forza Italia Guido Liris che si scaglia contro l'amministrazione di centro-sinistra guidata da Cialente. Rea, secondo il consigliere, di non aver risposto alle istanze del comitato referendario. Il centro-sinistra risponde con il silenzio all'appello del comitato referendario Steve Gran Sasso, afferma Liris. Qualche giorno fa il comitato ha chiesto alla politica di schierarsi e di dire esplicitamente il proprio pensiero sui quesiti referendari, di uscire dalla posizione equivoca, di essere concilianti sia nei confronti del comitato stesso, sia nei confronti delle sigle ambientaliste. Il risponso è stato un assordante silenzio, un silenzio che la dice lunga sul conflitto ideologico, politico ed amministrativo che imbarazza la maggioranza in Consiglio Comunale. Nelle scorse settimane lo stesso Liris aveva avanzato una richiesta di Consiglio Comunale straordinario, proprio per discutere della vicenda, per ascoltare le ragioni degli ambientalisti e del comitato referendario, ma anche in questo caso la richiesta è caduta nel vuoto. Sarebbe stata un'occasione, spiega Liris, per consentire alla politica aquilana di prendere una posizione chiara di fronte alla città. Nonostante lo abbia fatto più volte, conclude Liris, colgo l'occasione per ribadire la posizione favorevole della mia persona e del mio gruppo consigliare rispetto all'indizione del referendum, sottolineando come lo sviluppo economico e turistico della nostra montagna non possa essere possibile con l'attuale perimetrazione di parco, SIC e ZPS. E domani all'Aquila ci sarà un doppio impegno per il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, l'avvio dei lavori di ristrutturazione della storica sede della direzione regionale e la presentazione del bilancio sociale 2014. Il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, sarà dunque all'Aquila, assieme al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Ente, Pietro Iocca, il Sindaco Massimo Cialente visiterà prima la storica sede della direzione regionale dell'Inps in Via dei Giardini, fortemente danneggiata dal terremoto del 6 aprile. Per il Direttore regionale Roberto Bafundi, la presenza dei vertici dell'Istituto nella loro massima espressione testimonia l'attenzione che l'Inps riserva ai cittadini e ai dipendenti e la volontà di rendere di nuovo fruibile la sede storica per accompagnare il percorso di rinascita del centro storico dell'Aquila che torna a vivere. A seguire presso l'editorium della Regione Abruzzo, in Palazzo Silone, il Presidente parteciperà alla presentazione del bilancio sociale dell'Inps Abruzzo dell'anno 2014. E si è svolta domenica scorsa, presso la Sala Convegni Lorenzo Ciampa, Parco Nazionale della Maliella, Abbazia Celestiniana di Sulmona, la cerimonia di consegna del premio Aquila d'Oro 2015. I riconoscimenti sono stati attribuiti alla professoressa Maria Romana De Gasperi, figlia del noto statista Alcide De Gasperi, per la sezione Solidarità Sociale, al dottor Franco Gabrielli, prefetto di Roma, per la sezione Istituzioni Pubbliche, al professor Mario Segni, noto riformista del sistema politico-elettorale, per la sezione Riforme Istituzionale. La commissione, presieduta dal professor Fabrizio Politi, ha inoltre conferito delle menzioni speciali, alla dottoressa Leandra Cerone, per la sezione Pari Opportunità, al commissario di pubblica sicurezza di Sulmona, ai commissari di Anversa degli Abruzzi, Cocullo, Corfinio, Fossacesi, Araiano, Roccapie e Vittorito, per la sezione Istituzioni Pubbliche, alla professoressa Maria Carla Somma, per la sezione Archeologia, alla signora Claudia Patriccelli, per la sezione Cultura. Bene, con questa notizia termina il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e per la vostra cortesia e attenzione. Rimanete su TV6 per la programmazione dell'emittente. Arrivederci. Grazie.